per non sapere né leggere né scrivere né giocare vado dopo tantissimo tempo il signor Grax torna su Brawl Stars per aprire una mega cassa del pass e scusatemi volevo aprirla col tortellone perché è tanto che non apriamo qualcosa col tortello ma so le 11 e 21 al momento della registrazione e tortello già sta a dormire va a dormire le 10 e mezza il torti peccato non ce l'abbiamo ma tranquilli perché andremo a giocare la sopravvivenza in singolo in sé di potere senza l'occhio supremo la vado a selezionare eccola qua sotto con Shelly in 2000 laghi una volta finita la sede di power apriremo la prima mega cassa del pass 2 di Brawl Stars dove è Shelly un attimo che la cerco eccola qua Shelly Cerotti messa la cassa in questione è la cassa della ricompensa gold numero 2 io penso che passiamo anche alla cassa enorme ma roh quante casse enormi raga vediamo vi ricordo come sempre un pollicione perché questo pomeriggio forse al primo link in descrizione dovrebbe esserci già la live programmata saremo in live per giocare la BS Championship ovvero questa qua sopra che inizierà appunto oggi la giocheremo insieme e faremo anche un video insieme tra l'altro potete fare gli abbonamenti e c'è una nuova emoticon di ringraziamento qua in alto a destra c'è anche la 39esimo emoticon in chat primo link per farla sub iscrivetevi campanella e codice Crax per supportarmi è fondamentale eh sarà tosta secondo me non ho visto la classifica ma secondo me ragazzi sarà abbastanza difficile eccola là rega Genio Shelly va bene come situazione li lascio la centrale prendo questa sopra e me butto sulla Cicoria Instant bisogna camperarla siamo alle giornate iniziali e questo sta a significare che non è che troveremo player chissà quanto incredibili però questo c'ha già due power up porca paletta e se Shelly stellare c'ha già power up big problems io rimango molto safe c'è un broc che posso schiantare devo cercare di fare un punteggio più alto possibile l'obiettivo è quello di arrivare a 30 circa più o meno coppe quindi secondo terza posizione via ho fatto una kill veloce ma ho visto Shelly ragazzi che ha tirato fuori la testa Genio sta andando su Shelly Genio viene fatto fuori da Shelly Shelly rientra al centro io cambio lane andando nella parte di sinistra cercando di togliere Pam al momento giusto però Pam mi può vedere adesso non può più vedermi quindi Grax scambia il posto Pam non sa che sono qui oh ma se comincia così dinamici ma non è possibile fermi 4 brawler cerco di salire leggermente perché penso che Pam vada a vincere ma se voglio prendermi 30 coppe in solo mi serve un'altra posizione ce la faremo non lo so sinceramente ho ancora tutti e tre i dash Shelly può colpire R-1000 laghi anche al centro facendo così non ho ancora la ulti carica quella è una grossa mancanza Shelly nella parte bassa sicuramente sta sulla destra con tre power up e la ulti carica doppia Pam due Shelly e due Pam non so sinceramente come andrà sono sincero di sicuro devo andare a colpire Shelly per caricare la mia ulti una volta caricata la ulti posso cercare di gestirla il brawler messo meglio credo che sia Pam al centro perché ha una gittata incredibile può colpire senza problemi può colpire da qualsiasi parte però se io voglio rimanere safe devo ovviamente provare ad andare qua ok Shelly muore esattamente Shelly ragazzi va giù vero che io ce l'ho ulti per entrare questo non me lo ricordavo eh però vado giù in terza ragazzi vado giù in terza vado giù in terza perché Pam è troppo forte al centro nessun problema più 30 è molto buono vediamo la classifica in top sono a 414 in Italia io sono a 314 a meno 100 con due partite ancora da fare spawn sull'angolo e ci giocheremo la cassa ah ragazzi penso che sia una sconfitta questa questa regà è una sconfitta perché devo lasciare di tanto il mio il mio posto posso provare a prendere queste se magari mi dice bene ma non è che devo essere veloce quello che viene dopo perché arriverà Mr.P ah ragazzi bruttissima giocata per me perché io qua vado a morire sicuro mi conosce non ci credo ma hanno sniperato pure in solo Grax sniperone questa sarà la sede di potere targata Grax sniper dovremo fare forse anche un emoticon per lo snipe un Grax cecchino oppure tipo con un obiettivo in fronte ci potrebbe sta io me ne vado via raga ovviamente il Mr.P mi fa un sacco di danni cerco diciamo una zona di comfort eccola lì raga Pam vince anche sto match che facciamo ho capito che sto con Shelly ma ma quanti so mezza mappa che spinna fermi tutti 8 bit non so se uno di no non lo so rega non lo so non so rega che sta succedendo lo faccio ho il rispetto dopo vediamo tutta quanta ma che ma state scherzando dopo vediamo tutta quanta la lobby e leggiamo i nomi perché io non so sinceramente chi possono essere questi fantastici player che li amo tutti non ci credo calmi dobbiamo bustare il contenuto voglio trovare anche uno skip luminoso magari il nuovo gadget di Corvo chi lo sa o addirittura Semino Shelly una di noi è che siamo troppi se spinnamo tutti non muore nessuno rega eh damoci una mossa cioè cerchiamo di capire come sbloccare questa situazione Brock va bene Shelly ok non vorrei killare Shelly ma penso che una certa bisognerà killare Shelly se Brock metà una mano sul Barry l'avversario soprattutto sulla Pam diciamo che sistemiamo molto la partita e di sicuro la terza la prendiamo siamo 3 vs 3 o forse 4 vs 2 Corvo va giù molto facile lo zio Corvo occhio all'8 bit che ci lascia le penne occhio 8 eh occhio 8 se puoi bisogna togliere Pam intanto il centro siamo tutti noi ce bannano rega ce bannano ce bannano ragazzi a tutti qua più 38 in un modo clamoroso grazie per il supporto 352 leggiamo fermi vediamo se siamo intanto in top siamo entrati in top con questa win ragazzi erano tutti italiani Fconco c'è sempre stato TSGYT la prima volta che lo leggo ti mando un abbraccio Skipper onnipresente Francesca Giasche pure grazie per il più 38 ragazzi c'è il vostro zampino in questa vittoria e ora facciamo l'ultima terzo match sopravvivenze in solo ma io a questo punto non le chiamerei sopravvivenze in solo è sopravvivenze team GX vado sotto però c'è l'8 bit quindi forse questo è il peggior spawn in assoluto preso finora non dovrebbe esserci nessuno perché mi sa che stanno prendendo altre casse ci provo regà poi magari me ne pento non lo voglio fare me ne pento la cassa l'ho presa Leon può venirmi a dare problemi Leon fatti gli affari tuoi perché non ho la minima intenzione di darti fastidio vado al centro prendo le due c'è Carletto e l'8 bit pronti a colpirmi Carletto è pronto a colpir aia e Carletto regà tanta roba Carletto ragazzi tanta roba ho fatto un colpetto per caricarmi un pezzo di ulti ho 3 power up ma adesso non fare l'errore dell'altra volta Grax scegli contro Carletto e ci ho preso gli schiaffi ve lo ricordate no? ah e mo che faccio no vabbè fermi ma quanti siete? no un'altra lobby ragazzi solo Carletto mi vuole ammazzare qualcosa di brutto a che fare con Carletto io attenzione rimango qui nel fortino centrale Carle ce l'ha proprio con me e poi è pure un domatore mi piacciono tanti domatori 8 bit shelly bea che mi invento è difficile fidatevi che è difficile questa partita io sto al centro e sono quello messo peggio la situazione è totalmente in stallo pareggiamo anche questa lobby qua provate ad andare aia ragazzi pam mi countera qui pam ragazzi mi countera molto molto easy non so che fare mi metto di qua così che pam non possa colpirmi un'ottima giocata questa di metterci dietro l'ostacolo però siamo a 7 il problema grande è che siamo a 7 stare a 7 non ci garantisce un buon risultato se voglio scalare questa stagione devo arrivare almeno terzo shelly prova a pushare 8 bit ragazzi mi dà fastidio le on penso venga fatto fuori in realtà mi tolgono la shelly mi provo a fare una push oh carletto ce l'ha avuto con me dall'inizio ragazzi carletto è dall'inizio che ce l'ha con me carletto regà è dal ho fatto una quarta va benissimo ragazzi va benissimo carla era dall'inizio ottimo prima posizione terza e quarta molto bene 26 coppe 378 siamo credo abbastanza in top a circa 48esimi un saluto a step incredibile sono stracontento per i risultati vediamo raga chi era la shelly io nel dubbio ringrazio netti con 8 bit e thunder vi mando un bacio enorme so che manca tortello ma in tutto questo vi ricordo primo link se vuole fare la sub siamo ufficialmente in road 3000 sub codice grax like iscrizione per oggi vorige primo no scusatemi secondo link l'abbonamento primo link la live di oggi pomeriggio brawl pass mega cassa e troviamo uno skip luminoso direi che possiamo anche aspettare l'aprimi apriremo anche la cassa enorme l'aprimi c'è ti prego semino ragazzi bonus quindi gettoni male mega cassa molto brutta il raddoppio è buono perché ci fa skippare un po' di soglie però andiamo anche con la cassa enorme perché secondo me può darci grosse soddisfazioni 3 2 1 aprimi come sempre e dire gadget di corvo oh my god è un botto di tempo che non vedo gli skip luminosi cosa potrà uscire io ho paura perché potrei finire l'account in realtà non lo finisco perché mi manca anche energetic energetic servirà potrebbe essere energetic potrebbe essere energetic chi lo sa per non sapere né leggere né scrivere né giocare vado non ci credo non ci credo tortello dove sei tortello dove sei stai dormendo tortello non ci posso credere ho finito i mitici e me manca sempre lui me ne manca sempre uno nuovo brawler se metto l'ho trovato da una cassa enorme questo è il momento giusto per supportare grax ci becchiamo questa sera ma stiamo scherzando allora mi fermo con le ricompense ragazzi vi lascio qui assolutamente verificato la sede di potere boost il contenuto un bacio da grax a questo pomeriggio e poi ci becchiamo anche domani ciao belli like infiniti ciao 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 ciao